ha detto che portava la panchina vediamo un po certo è ridotto male con la panchina disastrata dal tempo dovrebbe cambiare ci ha detto quelli del parco parco con la della rossa stiamo aspettando dai che panorama il sole sta calando fra poco ciao Sonia dai gioca orzetto dai gioca con Mimmi dai 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 gioca gioca dai orzetto dai gioca 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 dai gioca dai rizetto dai 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 gioca 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 짠 gioca che gioca gioca Grazie a tutti. Una pacchia, una pacchia. Bene su qualche lepre o cinghiale. Bene, questo è il passaggio. Inefficienti ci ha buttato le pentole. Monte di Serra, il Macio, qui c'è Naomi Padre. Gioca, dai, gioca, gioca, ecco che il sole cala, e io chiudo, eh? Ciao, ciao, ciao a tutti, alla prossima!